yo yo let's go buona estate a tutti la vita è un cartone animato italiano prodotto da RaiFition e RaiRagazzi trasmesso in Italia da RaiYoYo nel 19 marzo 2017 con 2 stagioni 52 episodi in totale 104 episodi EPS è l'unica serie animata con il titolo del canale di RaiYoYo che prende il nome va bene iniziamo la serie Padati due gemellini io io che abitano in una casa assieme al cane Ragu i genitori la mamma e il papà non si mettono che io io vogliono cazzare nel mondo di qua e nel mondo di io è un maschio e l'altra io è una figlia che hanno un nome senza senso e perché penso che sono fidanzati va bene allora vedete prima quello che dicono io io let's go quello che vedete prima della siglazione di siglazione show state arrivare io io nel tappetino vanno nel mondo a incontrare i personaggi e nel nel dopo lei e i Yoyo cantano una canzoncina di merda che sono fidanzati sono davvero fidanzati vero? sei più sei più di una sorella sei più di un fratello se ci sincronizziamo è tutto molto più bello se hai un problema che devi affrontare insieme si sa si risolverà va bene adesso andiamo a vedere i personaggi io è un maschio testardo blu tanto non sto guardando e non sono un fan della serie di Yoyo scusatemi perché non sono fan io è un maschio che spesso con la sua sorella che non ha senso e poi abbiamo anche io ancora io ancora io anche lei che lui fa il contrario che sono dei coglioni Yoyo i gemelli sono dei coglioni poi c'è anche il cane ragù che è doppiato da franco manella Yoyo poi cambiano voce nella seconda stagione che con due stagioni 15-50 episodi in totale con 104 episodi è vero che è giusto che il cane ragù e altri personaggi sono una merda e la serie e vè va bene va bene ho durato poco iscrivetevi al canale mettete più mi piace sigla in descrizione condividete e commentate e alla fine del video vi lascio l'immagine ufficiale si lo so lo dicono tutti va bene è una puntata dura poco va bene ciao a tutti yo yo let's go haha yoyo e e e e e e